Il libro è il frutto di una ricerca sulle trasformazioni architettoniche ed artistiche della città di Matera del XVII e XVIII secolo. Tra le scoperte più importanti di Eleonora Carmela Bianco, l'individuazione degli altari in marmo della chiesa della Bazzia Benedettina di Montescaglioso, venduti dai monaci ad alcune chiese di Matera a partire dal 1776. L'autrice del libro ha presentato la pubblicazione arricchita da numerosi documenti e fotografie. Come è nata l'idea di questo studio e qual è stata la spinta all'occasione giusta? L'idea è nata in seno alla prima tesi di laurea che ho svolto, che riguardava lo studio della committenza della famiglia Ducale Malvini Malvezzi. Spulciando tra le carte d'archivio di questa famiglia uscì fuori il documento di acquisto di uno degli altari da Montescaglioso, posizionato appunto nella cappella privata di questa famiglia Ducale all'interno della chiesa di San Francesco d'Assisi a Matera. Quindi in seguito a questa scoperta, alla laurea specialistica, dovendo ricostruire un po' tutta la committenza della Matera barocca, quindi dal 1600 al 1700, era doveroso approfondire questo argomento. E quindi sono venuti fuori altri documenti e in più lo spoglio in archivio fotografico e in soprintendenza e poi il giro nelle chiese mi ha portato appunto a scovare gli altri cinque altari di cui non si avevano notizie. Noi conoscevamo i tre altari, diciamo trafugati tra virgolette, e che sono presenti a Matera. Vogliamo ricordare gli altri cinque che lei ha scoperto? Sì, allora a parte quello della cappella dei Malvini Malvezzi, abbiamo ancora un altare nella sagrestia della cattedrale, un altare nel palazzo Arcivescovile, sempre a Matera, e poi ancora abbiamo altri due altari nella chiesa del Carmine, che sono quelli speculari, l'uno di fonte all'altro. Quali sono le caratteristiche più importanti che donano maggiore valore a questi altari? Innanzitutto la qualità dei marmi, perché appunto si tratta di altari della tradizione napoletana, che avevano costi altissimi e di cui Matera ne ha pochissimi, un po' tutta la basilicata ne ha pochi. E quindi, a parte appunto la tradizione napoletana, la qualità dei marmi, è anche l'attribuzione a questa bottega di Domenico Antonio Troccoli, che era un grande marmorario allievo di Domenico Antonio Vaccaro, che fu proprio il padre della corrente Rococo e da qui effettivamente il Troccoli prende molti motivi decorativi, soprattutto dei paliotti e dei gradini del postergale.